Peppe Pietropaolo, Argos, la settimana teatrale è finita qui a Porelli, grande soddisfazione, grande pubblico e grande impegno da parte di tutti. Sì, sono contento di come è andata perché sono state cinque serate, una più bella dell'altra, poi questa sera ha concluso l'una gialla di Pellero con il presidente Quangelo Latella e niente, un grande pubblico tutte le sere, la piazza piena, quindi siamo più che soddisfatti. E che possiamo dire con Angelo Latella, insomma compagnia storica calabrese e soprattutto negli ultimi tempi impegnato anche con Assovita nel coinvolgere le tante compagnie teatrali del territorio? Sì, abbiamo voluto sperimentare questa organizzazione di compagnie nazionali, un'organizzazione che nasce per la prima volta in Calabria, si chiama appunto Assovita, significa volontari italiani del teatro amatoriale e tramite questi percorsi, queste conoscenze tra gruppi è possibile fare queste manifestazioni come quella di stasera a Bagnara, diciamo che circuitare le compagnie è uno dei motivi per cui è nata Assovita. E poi guarda anche al sociale? Sì, abbiamo per statuto l'integrazione sociale, abbiamo progetti dove prevediamo il coinvolgimento di persone con disabilità anche grave. A che punto è il teatro amatoriale calabrese? Diciamo che c'è un'evoluzione, perlomeno si sta riscoprendo la voglia di ristrutturare le strutture, quindi c'è molto fermento a livello di teatri che vengono ristrutturati, ci sono progetti di teatri che andranno costruiti, quindi c'è una riscoperta del valore del fare teatro. Poi per buona percentuale rimane comunque alta la percentuale di compagnie che ancora lavorano in dialetto calabresi. Naturalmente quello che vi spinge è la passione, l'amore per il teatro, perché è anche faticoso, non è così semplice. Sì, è un hobby a tutti gli effetti, io faccio sempre il paragone con gli altri hobby, con il cacciatore, che si organizza, che si alza la mattina alle 4, che compra le cartucce, quindi ha anche delle spese. Noi facciamo il teatro così, spendiamo anche soldi di tasca nostra perché ci crediamo, facciamo sacrifici, arriviamo alle 3 di mattina a casa quando facciamo spettacoli lontano, perché? Perché ci crediamo, oltre alla passione del salire su un palco, c'è anche quella dell'organizzare il come salire su un palco. Gli impegni di Luna Gialla per la stagione estiva? Ma noi come al solito faremo delle serate in giro un po' per tutta la provincia, il 5 luglio saremo di nuovo nella nostra zona a San Leo di Pellaro, il 4 agosto forse saremmo pure ad Arangea e nella progettazione prevediamo di lavorare anche d'inverno, quindi finita la tournée estiva abbiamo già degli impegni invernali. Per quanto riguarda invece il teatro nel Borgo, l'appuntamento è per l'anno prossimo? Sì, l'anno prossimo anche l'appuntamento è a Natale, con il presepe nel Borgo e poi diamo appuntamento pure il prossimo anno con il teatro nel Borgo, sempre qua in piazza San Nicola. È appena finita la rassegna teatro nel Borgo, ci troviamo con il prof, mitica figura, qui a Porelli, insomma tante iniziative, l'ultima è quella del carnevale, però sempre attivo, sempre presente e sempre carico di energie e di idee per questo quartiere. Sì, Carmelo, come ben dicevi tu, siamo molto contenti e molto soddisfatti di questa iniziativa, ricordiamo che l'associazione Argos, la compagnia teatrale Argos, ha il suo ventesimo anno, ha il ventesimo anniversario dalla nascita della compagnia e siamo contentissimi per la buona riuscita delle cinque serate, ricordiamo che ci sono state, oltre a quella di stasera, altre quattro serate, siamo molto contenti, tante persone, tanta affluenza in questo nuovo ambiente, è la prima volta che viene organizzata qui a piazza San Nicola, qui davanti proprio alla chiesa dell'Immacolata. E niente, ringraziamo tutti, tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa, l'amministrazione comunale per averci fornito i materiali, gli sponsor per il loro grande contributo e tutte le persone che sono accorse qui a vedere la recita. Insomma, a Porelli si dà da fare tante le iniziative nel corso dell'anno. Come ben dicevi, Porelli, oltre ad aver organizzato qui l'ultimo Teatro nel Borgo, ricordiamo che quest'anno abbiamo ripreso la festa del Carnevale, quindi siamo ben contenti che qui nel Borgo di Porelli ci sono tante iniziative. E niente, siamo contenti di tutto questo e i giovani stanno collaborando ampiamente a queste iniziative e coinvolgiamo non solo loro ma anche tutte le altre persone, le persone più adulte, anche quelle più adulte, di collaborare, di partecipare e di portare avanti questo borgo e di valorizzare ovviamente qui il nostro Borgo di Porelli che già si sta raffermando da due o tre anni a questa parte con tutte queste iniziative. Grazie.